5.13, nota personale, si muove tutto più in fretta, io sono... 7.10 7.10, se fissi il vuoto puoi diventare cieco, cosa possono fare gli occhi senza il cervello? Niente, se non c'è un cervello che trasmette le immagini che vediamo, non vediamo niente. Il mio cervello è rimasto indietro, i miei occhi lo sanno, bisogna cercare, cercare e sperare, oliare il cervello per farlo correre. Sono fermo con i miei occhi in mano, stavano correndo troppo, dicono che non c'è più tempo, non c'è più tempo, non c'è più tempo, come facciamo a stringere l'essenza di Dio? Le mani mi fanno male, gli occhi si stanno chiudendo, il mio cervello è in ritardo, in ritardo, ma io sto cominciando a vedere. Gli occhi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.